3, 2, 1 3, 2, 1 Affronteremo l'idea che in questa vita possiamo avere più di una vita, possiamo avere più di una possibilità, nel senso che possiamo riciclarla la vita, possiamo farla diventare altro, basta volerlo, basta impegnarsi, basta esprimere una volontà forte. Certamente poi ci sono tante condizioni da creare, tante condizioni che devono anche crearsi da sole, però se vogliamo possiamo. E con ella affrontiamo proprio questo triste argomento che è quello di tante donne che arrivano dalle coste africane e poi si trovano in un paese, in Europa, insomma si trovano in un occidente a dover affrontare la vita di tutti i giorni e anche come dire problemi della vita di tutti i giorni legati alla tratta, legati alla prostituzione, legati a gentaglia che ne vuole approfittare. Quando sono arrivata in Italia ero solo carne da macello, avevo 16 anni, una ragazzina extracomunitaria come tante, rapita e trasportata illegalmente come molte altre bestie esotiche. I miei padroni mi hanno buttata in strada, giù botte e cazzi fino a quando ho incontrato un angelo. Erminia mi ha strappata la schiavitù e al racket e mi ha nascosta per mesi nella casa accoglienza, a quei tempi si era appena spogliata dal velo di suora. È lì che ho iniziato a imparare l'italiano, mi hanno aiutata per i documenti, per il diploma e per dimenticare, sì per dimenticare tante cose che altrimenti non sarei stata in grado di lasciarmi alle spalle. Se solo ci ripenso, mi sembra un miracolo. Una volta chiuso con il passato e con davanti una vita nuova e tanta voglia di fare, mi hanno aiutato a trovare un posto da segretario presso un'avvocata e ormai sono cinque anni che lavoro nello studio della dottoressa Cara. Mi piace, è super professionale, sa quale 17 e posso dedicarmi per tutta la notte alla mia grande, grande passione. Quando canto divento un'altra, è come se dentro le mie vene iniziasse a scorrere un sangue nuovo che mi trasforma, divento un'anima nera, un fiume di musica jazz che vorrebbe inondare la città e sommergere la notte. Non sono niente male, vorrebbe registrare un promo, dice che lo farebbe passare nei locali per vedere se piace, magari anche in radio e su YouTube e poi si potrebbe farlo ascoltare a qualche discografico. Chissà, chissà se riuscirò a fare un disco da cantante professionista. Grazie, grazie per avermi accolta fin qui. Vedete, noi chiudiamo gli occhi su tante cose che ogni giorno, chiudiamo gli occhi e le orecchie su tante cose che ogni giorno ascoltiamo dai TG, dalla radio, leggiamo sui giornali. Però qui in Occidente, in questo Occidente in cui vogliono venire tutti quanti, chissà perché, perché poi noi ci stiamo male e gli altri ci vogliono venire. Approda veramente tanta gente, tanto malessere, tanta speranza, tanta voglia di riscattarsi da una vita che evidentemente nei paesi africani, perché stiamo parlando di gente che arriva dai paesi africani o che arriva dalla Libia, dalla Siria, dall'Afghanistan, sta veramente male. Allora immaginiamo per un attimo che cosa può voler dire lasciare la propria terra. Io sono figlio delle migrazioni, anni Sessanta, è in Svizzera, quindi qualcosa posso capirne. Che cosa può voler dire lasciare la propria terra, i propri amici, i propri parenti, gli affetti, le piccole cose che si hanno per andare, come dire, in un altro posto, attraverso un barcone, si patina un camion, in mille modi, per cercare di arrivare in un posto e reinventarsi la vita. E poi invece come molte donne, come molte bambine, come è il caso di Ella, finiscono vittime di tratta, finiscono nella trappola di gente che le usa, le abusa, le butta in strada, le vende, le stupra. E poi, come dire, qualcuna ce la fa, ma qualcuna e tutto il resto. E allora pensiamoci, apriamo gli occhi e se possiamo fare qualcosa, facciamolo. Perché se no questo Occidente, questa civiltà dell'Occidente, e pensiamo al Rinascimento, per esempio, ma che ci siamo arrivati a fare? Che storie abbiamo scritto se oggi poi non sappiamo essere gli uomini e le donne all'altezza della cultura e della sensibilità che per secoli, ormai quasi un millennio, un millennio e mezzo, abbiamo e continuiamo ad esprimere. Noi che ci diciamo occidentali, noi che ci diciamo vecchio continente, noi che ci diciamo portatori di cultura, di democraticità, di liberalità nei confronti del resto del mondo. E invece con Plastica, le avventure di Plastica 1, che ricordo ha vinto il premio letterario nazionale Luigi D'Amico 2019, proprio nella sezione letteratura per ragazzi, e per cui sono candidato migliore autore dell'anno dalla LFA Publisher Italia Spagna, affrontiamo, come dire, un altro modo, come dire, di vedere la possibilità di riciclarsi, di essere nuovi. E proprio nel capitolo 12, usa e getta, utilissima, utilissima. Tutti mi tengono tra le mani e dicono che servo a fare grandi cose, ma poi tutti mi buttano quella come fossi niente. Come fare? Questo atteggiamento nei miei confronti non mi piace affatto. Bisogna inventare, bisogna inventare qualcosa per cambiarlo. Boccione, che sarebbe il fratello di Plastica, dalla sua prospettiva, testa in giù, dice che è inevitabile. La gente prima ti usa e poi ti getta via, quasi con disprezzo. Lui è nella mia stessa situazione. Ne potrei parlare con papà, ma anche lui è stato usato e gettato. Il papà è un vecchio pallone. Ne potrei parlare con mamma, ma anche lei ha gli stessi problemi. E la madre di Plastica è lattina, un'ex lattina. Scarpetta rossa e scarpetta gialla, che ve lo dico a fare? Frisbee, lui è in viaggio. Per ora irraggiungibile. Comunque, anche nel suo caso, non c'è da meravigliarsi se finirà in qualche vecchio scatolone, dimenticato, in un garage. Fulmine, scarica a terra. E poi, chi si è visto, si è visto. Lampo rimane stria di luce in cielo. Dovrò chiedere consiglio a zio Rotolo, che mi sembra l'unico capace di risolvere il problema. Lui sì che torna e ritorna, continuamente riciclato. Ecco, forse la soluzione è nel sapersi riciclare bene. Molte persone cambiano casa più volte nella vita, e il lavoro tante altre volte. Molte donne cambiano marito, e moltissimi mariti trovano altre mogli, che hanno lasciato altri mariti, che cercano all'infinito mogli di mariti senza moglie. Insomma, è pieno di gente con le idee confuse, è con bisogno urgente di riciclarsi, pieno di gente che pur di non affondare, di restare a galla, farebbe qualsiasi cosa. Ma io... Lei si chiama plastica. Ma io... Sì, è vero che sono di plastica, ma è pur sempre vero che sono anche una persona che si chiama plastica, e questo non deve autorizzare nessuno a trattarmi come una cosa qualunque. Tanto più che ogni giorno risolvo un sacco di problemi, e c'è gente che ci vive, che ci lavora, che si protegge grazie a me. Ha ragione la direttrice, la direttrice della scuola, quando dice che qui manca la cultura del rispetto. Eh sì, ha proprio ragione. Ecco, vedete, vite che diventano altro, come la cantante, no? Nelle teologie delle casalinghe, quindi da segretaria, da ex prostituta, da ex vittima di tratta, che poi invece apre a un futuro di cantante jazz. E qui dall'altra parte questo strano personaggio che si chiama plastica, è plastica ma è anche una ragazzina di 11 anni, che dice ma forse l'idea di riciclarsi sta nel coscientizzare, nel far capire alle persone che è nell'uso, è nel come si riusa la plastica, di come si tratta dopo che l'abbiamo usata, che forse possono cambiare le cose. E allo stesso tempo ci ricorda che in fondo, è vero, sì, vogliamo tutti un mondo plastic free, ma nel frattempo è un mondo plastic all, e che la plastica serve anche a salvare vite. Pensiamo per esempio a tutta la plastica che viene usata negli ospedali, pensiamo anche alla plastica che ci protegge da tante cose, i guanti, insomma, pensiamo che la plastica è una cosa buona, e poi, come dire, quando la si butta appunto usa e getta, che voglio dire che fa la differenza, che diventa probabilmente qualcosa di cattivo, perché noi la buttiamo ovunque, la gettiamo ovunque per separarcene, e a quel punto ce la ritroviamo ovunque. Detto questo quindi vi lascio con le avventure di plastica 1, inizio delle cose.